Ciao a tutti e bentornati su Starlet Sub. Io sono Sara e dopo tanto tempo torno con una nuova reaction. Lo so, è un po' che non ne faccio, ma non è uscita roba che richiedesse una reaction, insomma, che sapevo che potesse interessare. Però, settimana scorsa, se non sbaglio, verso la fine della scorsa settimana, è uscito il primo trailer dedicato al nuovo film, Il Corvo, che da quello che ho capito non vuole essere un remake o un reboot del film di Alex Proyas con il protagonista Brandon Lee, che sappiamo bene poi cosa è successo sul set di quel film. Brandon Lee morì a causa, dicono, di un incidente con una pistola. Ve ne parlerò quando farò il video dedicato proprio al film, che per me era unico. Io già parto dal presupposto che questo film non era necessario. Questo film si pone come nuovo adattamento di questa, non so se è una graphic novel o un fumetto, non so neanche di chi, vi dirò la verità. Non sono molto informata. Se qualcuno è più informato di me, me lo dica nei commenti. Così avete anche una scusa per commentare. Quindi io già parto, ammetto, parto un pochino prevenuta. Ho visto anche alcune immagini promozionali che sono uscite e sono ancora più perplessa. Però, come si dice sempre, prima bisogna vedere il prodotto fatto e finito e poi farsi la propria opinione. Quindi adesso mi accingo a guardare questo trailer. Come ho detto, però, parto già prevenuta, lo ammetto, perché io sono molto affezionata al film Il Corvo, quello con Brandon Lee, perché io sono una grande fan di Bruce Lee e Brandon Lee, secondo me, poteva fare la stessa carriera del padre, anzi, forse anche di più, ma il destino è voluto diversamente e, vabbè, ci sarebbero poi tante cose da dire su questa cosa. E niente, partiamo con questo trailer e vediamo. Poi, sinceramente, a me Bill Sasgard, come attore, piace. È un attore di talento, insomma. E lui ha già detto che poi non vuole affossare Il Corvo di Brandon Lee, anzi, vuole quasi omaggiarlo. Ci sarà riuscito? Vediamo un po' se questo trailer ci dà già un'idea. Oddio. Cioè, c'ho già le idee confuse, eh? Oddio. Io sono l'inferno. Oddio. Oh, madonna. Cos'è? Quando una persona muore, un corvo accompagna la sua anima nella terra dei morti, ma a volte accadono aventi così terribili. Oh, madonna. Che l'anima non riesce a riposare. No, non è visto. Ma cos'è, Saro? Ti è stato donato il potere di un dio. Eh, no, ma no. Eh, che cos'è? Ma il tempo per salvarla sta terminando. Io ucciderò tutti quanti, uno per uno. Non lo so, ragazzi. Io ti ho ucciso. Sì, l'hai fatto. Abbiamo un problema. È venuto per noi. Oh, signora, ora chi c'è? No, 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 no. Il polso è la rabbia. Non c'è atmosfera. Ma è un Joe Wick con un tatuato. Ma che è sto casino? Non so neanche cosa dire. Cioè, è un agglomerato di tante cose. Invece lo so. Ma cos'è sta roba? Quante persone hai amato? Ma è un Joe Wick in versione punk? Ma no, no, non ci siamo, no. Allora, per me non ci siamo. Assolutamente no. Non ho niente contro Bill Sasgar, come ho detto un attore che apprezzo molto. Ma questo sembra un cazzo di Joe Wick con un punk al posto di Keanu Reeves. Cioè, lui con tutti questi tatuaggi che sembra quel cantante di cui non sono nome. Infatti è venuto già fuori il meme di questo cantante qua. Non so chi sia. Se lo sapete ditemelo nei commenti. Ma no. Dov'è l'atmosfera? Cioè, il corvo, non solo quello di Brandon Lee, ma comunque il corvo in generale aveva un'atmosfera dark romantica. Qui, io romanticismo non ne ho visto. Cioè, poi non lo so, come ho detto poi, bisognerà vedere il prodotto fatto e finito. Ma già da queste prime immagini, io ho il famoso brividino che parte dalla nuca e arriva al buco del culo. Mi dispiace, ma è un cazzo di Joe Wick? Come ho detto, le atmosfere sono quelle di Joe Wick. No, 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 forse poi magari sono io. Ma ditemi che anche voi avete avuto questa impressione, vi prego, perché non lo so. Non ci siamo. Non ci siamo. Perché? Perché riprendere in mano una cosa che comunque era già stata fatta bene? Il corvo è un film che ha avuto non solo una storia travagliata per via della scomparsa di Brandon Lee, ma è comunque aveva l'atmosfera, aveva proprio l'atmosfera del film horror, un po' gotico e per quanto comunque non ci fossero tante scene tra Shelby e Eric, la forza del loro amore si sentiva attraverso comunque i flashback che mettevano. Ma l'atmosfera era del tutto diversa. Qui hanno voluto, almeno a mio parere, almeno da quello che ho visto in queste immagini, sembra che abbiano voluto puntare più sull'action piuttosto che sull'atmosfera più cupa e gotica. E questo è un male, perché Eric Draven è un personaggio che non è un, come che posso dire, non è un fottuto serial killer. Cioè nel senso, questo sembra un ex soldato che ha perso la brocca perché gli hanno ucciso la moglie ed ha delle capacità incredibili. Invece no, Eric era un cantante, almeno nel film di Brandon Lee, che il Corvo riporta in vita per vendicarsi e che aveva delle capacità particolari, ma Brandon Lee infatti non usava le arti marziali in Il Corvo, come invece negli altri film che ha fatto, tipo Resa dei Conti a Ditto il Tokyo, Drago d'Acciaglio, non è che ha fatto tantissimi film in Brandon, purtroppo. Io li ho visti però. E gli arti marziali le usava perché lui è stato allenato da Bolo Young, che era un allievo appunto di suo padre. Avevano anche lavorato insieme nei tre dell'operazione Drago, quindi è stato lui ad allenarlo per quei film, come hanno anche recitato insieme, soprattutto di Resa dei Conti a Ditto il Tokyo. Quindi di conseguenza però lui non usava particolari tecniche combattive o quant'altro. L'atmosfera era diversa, era molto più cupa, molto più gotica. Qui, come ho detto, mi sembra di trovarmi davanti all'ennesimo film d'azione con quello che sbarella perché gli hanno ucciso qualcuno e deve vendicarsi. Non è la stessa sensazione che mi dovrei... Non è la stessa sensazione che mi avrebbe dovuto darmi un film basato sul Corvo, almeno non per quello che... Non per il rapporto che ho io poi con questo personaggio, con Eric Draven. Bill Sasgar non è Eric Draven, semplicemente. Non lo so, non sono per niente convinta, l'avrete capito? Non so neanche come reagire a questo trailer, perché sono un'accozzaglia di cose. Poi c'è anche questo personaggio che... Quell'attore lo conosco, solo che non mi ricordo come stracazzo si chiama, ma che ha fatto... Me lo ricordo perché i miei l'hanno appena rivisto. L'Attacco a Potere 3 era il Villain di Gerald Butler, però non mi ricordo come stracazzo si chiama quell'attore. Ma... Non lo so. Ecco, posso dire non necessario. Questo ennesimo film sul Corvo non era necessario. Poi, io comunque, una possibilità gliela darò, perché come dico sempre, bisogna vedere il prodotto fatto e finito. A volte i trailer ti danno un'idea, poi magari il film invece è tutta un'altra cosa. Vedi se è anche One Piece, quando abbiamo visto il primo trailer, tutti che ci siamo scandalizzati per la CGI orribile, poi è uscito il secondo trailer che ci ha convinto di più, e poi il prodotto fatto e finito che ci ha fatto innamorare. Quindi, aspettiamo. Io, come dico, poi magari se esce qualche altro trailer ne vale la pena, più che volentieri. Ma aspetto il film, infatti, è finito. Io, però, se penso, io se penso che hanno rimandato Ballerina con l'Ana de Armas e Norma Rilus, perché noi di Canary d'Italia eravamo molto curiose di vedere quale sarebbe stato il suo ruolo, doveva uscire a giugno, lo hanno rimandato per far uscire questo. Da quello che ho capito sono dei problemi logistici, ma che questa cosa abbia preso il posto di Ballerina che francamente forse era un pochino più interessante, per quanto ormai anche John Wick sta diventando un franchise a più ampio raggio. Infatti, da quello che ho capito, è uscito The Continental, che ancora devo vedere. Vogliono fare un altro spin-off. Adesso uscirà appunto questo Ballerina che si frapporrà fra il terzo e il quarto film. Ma comunque sono cose nuove, interessanti, comunque non c'è sempre che hanno rift di mezzo. È lo stesso franchise, ma comunque con personaggi diversi, un po' come sta facendo The Walking Dead. E a parte Dead City lo sta facendo abbastanza bene. Quindi io non vedo l'utilità, cioè che mi abbia rimandato quello. Per questo mi girano già le palle, mi girano già le palle, vi dirò la verità. E soprattutto non ne vedo l'utilità. Io, lo continuo a ribadire, basta. Che poi loro non vogliono, non vogliono, diciamo, promuoverlo come rebuto remake di quello di Proyas. Ma inevitabilmente uno finisce per pensare a quello. Il Corvo era Brandon Lee. Lo hanno dimostrato anche gli altri terribili seguiti che sono usciti, che hanno fatto schifo alla merda. Tutti quanti, nessuno escluso. Quindi perché invece di ricalcare su qualcosa che comunque... Se il film di Brandon Lee avesse fatto schifo, lo avrei capito. Facciamone un altro che magari è migliore. Un po' come It. It, il film che hanno fatto con Tim Curry, faceva schifo. Non era per niente fedele al libro. E ne hanno fatto un altro. La prima parte bellissima, la seconda un po' meno. Ma perlomeno, visto che quello che avevano fatto prima era brutto, hanno detto facciamone uno migliore. E nel bene o nel male, più o meno, ci sono riusciti. Hanno comunque fatto meglio di quella schifezza, per quanto la seconda parte sia abbastanza deprecabile. Ma perché se il Corvo di Brandon Lee andava già bene così, riprendere di nuovo in mano un franchise che comunque già andava bene così come è stato fatto la prima volta? Perché invece non fare qualcosa di nuovo? Avete rotto il cazzo? Sank Menur, perché farmi un remake quando c'è già quello con Cialto Nestor che ha vinto più Oscar di quanti ne potrà mai vincere qualcun altro, che era perfetto, andava benissimo, e fare quella stronzata che è uscita, che ha fatto cagare i polli? Perché? Perché basta! Ho anche Exodus. Riddini Scott, io ti voglio bene. Ma perché mi hai fatto quella roba quando c'erano i Dieci Comandamenti, sempre con Cialto Nestor che andavano bene così? Perché? Perché? E basta! Non ricalcate più su franchise che comunque hanno già fatto bene il loro lavoro. Porca di quella puttana, smettiamola! Non c'è l'atmosfera, non c'è il messaggio, non c'è niente. In questo hotel abbiamo visto soltanto un tizio tatuato che massacra persone. Io non ho visto nient'altro. Mi spiace per Bill Sasgar, perché come ho detto è un attore che apprezzo, magari poi darà anche una prova di livello, adesso dobbiamo vedere, ma io qui non ho visto il corvo. Ho visto un tizio pieno di tatuaggi e strafatto con una iena che ammazza tutti perché gli hanno ucciso la fidanzata. Niente di diverso da un John Wick o un Io sono nessuno o altri film poi che sono usciti che seguono sempre questo filone. La persona che viene portata al limite e fa strage di cazzi e mazzi. Quindi, io non sono voi, questo trailer non mi ha convinto, lo avrete capito, però come ho detto aspettiamo di vedere il prodotto fatto e finito. Il brividino c'è, staremo a vedere, ma io ho già paura ragazzi. Veramente non ne posso più di vedere i cult fatti bene, stuprati nel culo. Diciamolo tutti insieme, ci siamo o no rotti le balle. Bene, questa reaction si riconosce qui, io spero che vi sia piaciuta. Per farmelo sapere, mi raccomando, andate qua sotto dove c'è il pollice in su e mettetemi un bel like. Iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, su TikTok e cliccate sulla campanella per attivare le notifiche e non perdervi nessun nuovo video. Soprattutto ragazzi commentate, fatemi sapere la vostra opinione, che tipo di rapporto avete con il corvo di Brandon Lee o comunque anche con l'opera originale in generale. Se avete letto magari i fumetti, le graphic novels, sinceramente io non sono molto informata su questo, proprio sul prodotto originale. Quindi se c'è qualcuno più informato, mi raccomando, nei commenti mi faccia sapere perché i vostri commenti non solo mi fanno un sacco piacere perché io vi leggo tutti ma come sapete i commenti aiutano l'algoritmo, spingono il video, quindi lo fanno vedere a molte più persone, migliorano le visual e sarei più contenta. Quindi se siete un pochettino più informati sull'opera originale del corvo, fatemi sapere appunto voi cosa ne pensate. Se pensate che magari quello con Brandon Lee aveva dato un'atmosfera diversa ma era poco fedele, se pensate che magari questo sia un po' più fedele però non c'è comunque l'atmosfera che... Insomma confrontiamoci, fatemi sapere la vostra opinione e il tipo di rapporto che avete sia con l'opera originale che col corvo di Alex Proyas con Brandon Lee. Mi raccomando, vi aspetto se non avete voglia di commentare almeno vi prego condividete il video con tutti i vostri amici e su tutti i vostri social. Io vi mando un bacione enorme e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ma perché non la smettono? Ma veramente ragazzi sono finite le idee originali? Perché se è così siamo veramente alla frutta eh ragazzi!